Filippo Ciavaglia è da ieri il nuovo segretario generale della Camera del Lavoro di Perugia, ad eleggerlo il Comitato Direttivo Provinciale con 69 voti favorevoli su 74. 46 anni, residente a Nocera Umbra, operaio dell'Antonio Merloni, ha iniziato la sua attività come delegato per la FIOMCGL, ha assunto la carica di segretario generale provinciale al posto di Vincenzo Sgalla, recentemente eletto segretario regionale, e ai nostri microfoni ha commentato la mancata elezione dell'ex segretario regionale Mario Bravi, parlando della necessità di un cambio di passo. Credo che sia giusto trovare anche quelli che possono essere i percorsi di rappresentanza all'interno del livello istituzionale, al di là dei risultati che possono essere dati dalle elezioni, questo è auspicabile per quanto mi riguarda, sia sul piano personale ma anche come organizzazione. Nello stesso tempo io credo che anche l'istituto di un'organizzazione sindacale grande come la CGL sta soffrendo in questo periodo, sta soffrendo all'interno della società, nel senso che anche noi dobbiamo dare un passo diverso, perché il mondo del lavoro è diverso, perché le esigenze sono diverse. Ciavaglia ci ha parlato anche delle vertenze locali, una situazione di grande problematicità dalla quale uscire solo grazie ad un nuovo patto tra enti. Senza scendere proprio nel dettaglio, credo che ci siano grandi problemi all'interno della nostra provincia, perché partendo appunto dalla Merloni, che io ho voluto ricordare perché provengo da quell'azienda, credo che intanto l'accordo di programma non debba essere posto in secondo piano. Lì ci sono delle risorse economiche, agganciate anche alla comunità europea, e vanno utilizzate per i lavoratori che ancora oggi vogliono praticamente mettersi a disposizione per fare qualcosa. Non ci dimentichiamo che quella fascia appenninica, che ha dato anche un buon risultato da un punto di vista elettorale, per tornare all'argomento di prima, credo che rappresenti il buco nero della nostra provincia, un tessuto sociale povero, un tessuto sociale che quando perde un posto di lavoro con 1.400 dipendenti è chiaro che si creano delle condizioni molto gravi. Naturalmente insieme a questo c'è nella provincia una sofferenza, basti pensare a tutto il percorso dell'automotive del città di Castello fino ad arrivare praticamente al territorio di Foligno, che con la crisi è chiaro che ha avuto delle conseguenze non indifferenti. Pensiamo anche alla frammentazione dei posti di lavoro e la precarizzazione, per arrivare anche a quell'aspetto, come dire, che io ricordavo una relazione che è anche sociale, cioè della pubblica amministrazione, quindi le riforme, pensiamo alla sanità, pensiamo a quello che è la riforma della provincia, pensiamo ai tagli che i comuni hanno da un punto di vista delle proprie risorse. Questo determina praticamente meno servizi, meno opportunità per i cittadini, in un momento in cui i cittadini e i lavoratori hanno più bisogno.